Monterodondo FC BELLA VECCHI DRA PANIS! CHAMPIONATE LATINO FC 0-1 Episodio dell'8 division 1 Abbiamo la stessa squadra quindi sarà una partita alla pari No, non c'ha tu del lui però Ma lui c'ha Stalic Va bene Eh, vai subito partiti, io subito skiller Guardalo, guardalo, vedi come perde palla subito La cosa importante è che ci manca in questo episodio se vinciamo tutte e due partite possiamo già passare in terza divisione Esatto, esatto, esatto! Pallo, no, perché è fuorigioco Eh, quattratto il palo ho preso, è stupendo, benissimo Bene, fantastico proprio Tranquillo Non ti preoccupare Vai, quadrato, corri come il vento del west furioso Ok Oh, chiudi Boom Oh, porca droga No, no No, ma che messaglia di Dai, continuo Bella la palavera, guerra, 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 guerra che è ingegno mi sento qualcosa? non hai nulla mi sento qua mazza che occhio grande che c'hai vabbè per ripeterti meglio vai 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 azar azar eccolo qua non fallo più con long queste cose tranquillo tranquillo non fallo che è stupido fallo fallo con TG2 non ci voglio fare in merda comunque regà non ci posso pensare a perdere sta partita non ci voglio pensare qua dai 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 va bene va bene dai va bene dai schema che ti capisca ieri 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 troppo tranquillo troppo niente eheheh oddio mio oddio godigno 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 e non ci voglio credi che bucce di colocia ma mi rassalato salubio no porca troia lascia che devo fare segnare non lo so ci devo entra in porta ehh vabbè vai dai godigno vieni 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 e che cazzo però no regà io non ci posso vedere sta partita la possiamo vincere 4 a 1 pittina un numero a caso eh perchè con il bel che si 10 a 1 però stanno a perdere no no erica hill unicamente lui oh ma che cazzo fa no no ha fatto biancolpo ho un po' un po' esigpole fanno e no non so ci vuole rabbia come gattuso l'unica non sapevo quando dirà sudorna indietro notteghi petture la chissimile non mi chiede stasera il giugno di maria ma la vergheria non c'è un po' di c'è stregata la porta come la data non voglio pensare la presa la linea chi è mu? ha dato il rigore? no 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 ha dato il rigore cos'è? cos'è? è il rigore? ha dato il rigore? ha dato il rigore? ma veramente? non puoi dare a farlo? no, tu ti manià puoi capuntana no, bello ma chi è questa partita? no, lei è stata parte a strada, ma stavolta è questa partita non c'è sto partito bella è che l'avevo pure presa hai visto? eh, si no, ma infatti c'è, non so perchè da rigore quando l'ha proprio toccato no, ma poi con qualche rigore proprio, ho visto che io l'avevo presa si è buttato più in là ah, Dio 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 Hazard 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 bah no va bene va bene dai raga ma che fai fai pure per culo? mi fai vedere la colla di Tecrology no, io non ci voglio credere non ho mai fatto una partita così comunque ma come? in serio qualcosa di scandaloso rigore rigore dall'altra parte si Hazard 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 no va vai 2 a 1 sti cazzi subito devo far 2 a 2 c'è, si sa che cattomo fa merina qua guarda che stronzo ma non ci posso capire che schifo mamma mia che schifo cioè oltre al fatto che hai sculato oltre al fatto che hai sculato che gente de merda al mondo che c'è stavo no mi dispiace perchè c'è pure la manietta della roma qua però sei proprio un'invenzione di merda sei vabbè ma puoi giocare sta gente ma puoi giocare fa sta gente poi mi metti il price range ma dimmi se sei normale una cosa del genere ti prego vai a segnare ti prego raga oltre al danno pure la beffa cioè proprio tutto è successo in questa partita io dico porca troia no ma ha avuto un culo per tutta la partita che ha dato il rigore che non c'era ma abbiamo preso doppi palli tutto quanto è a 10 minuti a fine famiglia io non c'è credo io voglio vedere statistiche cioè voglio vedere statistiche guarda 18 tiri 11 tiri in porta siamo riusciti a fare un gol poi 55 di con la stessa balla perchè ha fatto meglio non ci voglio pensare raga cioè io penso che questa partita ve la prendete tipo unica partita unica vi mettiamo perchè vi volete vedere completamente tutte le cose che sono successe partita unica con pochi tagli e vedete quello che cazzo è successo perchè veramente uno schifo qua uno schifo proprio cioè ditemi se vi prego non fate quello che ha fatto questo perchè veramente è la cosa più brutta che ci può essere in questo gioco niente ci vediamo al prossimo video belli ciao